L'assemblea è stata importante perché si è avuto la possibilità con i soci di Coingas, quindi i sindaci della provincia di Arezzo, di cercare di capire quello che poteva essere successo. Fra l'altro stamani c'era stato un incontro di Estra con i vertici regionali dei consumatori, quindi hanno avuto la possibilità di spiegare. Stesse spiegazioni che sono state date oggi ai sindaci, spiegazioni anche molto tecniche sull'andamento del tipo di tariffe, tant'è vero che stiamo già lavorando per predisporre un comunicato stampa da passare a tutti gli organi di comunicazione per cercare di spiegare quelle che sono state le motivazioni portate dalla società. Già Estra aveva predisporto un piano di rateizzazione delle bollette più importanti, ha dato l'assicurazione sull'andamento di un mercato che ha vissuto momenti veramente da panico sulle tariffe della materia prima per motivi che tutti sappiamo, legati sicuramente da qualche parte e da parte degli speculatori di produttori di energia, ma anche dovuti alla carenza, dovuta alla fornitura della Russia e tutto il retto, però è rassicurante l'andamento dell'attuale mercato che sta scendendo e ritornando ai valori che erano pre-scoppio di tutta questa tempesta perfetta. Sono state date spiegazioni di come funzionano le letture delle varie bollette, sull'autolettura, le letture elettroniche dovute da apparati che forniscono solitamente, però anche lì quello che sta venendo fuori nel sistema della distribuzione, ma non è un programma di Estra, ma è un sistema di distribuzione che gli apparati oggi trasmettono i dati attraverso una rete di 2G, una rete che oggi è sempre più carente, quindi è in corso, addirittura Estra oggi mi sembra che abbia parlato, entro 2023 di sostituire altri 23 mila, quasi 24 mila contatori per adeguarli alle nuove tecnologie della comunicazione, da dove la telefonia ha creato con la vecchia rete diverse difficoltà nella trasmissione dati.